State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Mille giorni e più, tanto sta durando la guerra tra Russia ed Ucraina, ma in realtà il conflitto non nasce da nulla quel fatidico 24 febbraio 2022 in cui le truppe russe hanno iniziato la loro operazione militare speciale. Il rapporto tra Mosca e Kiev è complesso da secoli e ne parliamo oggi con il professor Alessandro Achilli che dopo aver lavorato per anni alla Monash University di Melbourne ora fa ricerca ed insegna slavistica all'Università di Cagliari. Buonasera Alessandro e grazie per aver citato il nostro invito. Buonasera Massimiliano e grazie dell'invito, molto molto gradito. È giusto quindi questo conteggio che abbiamo sentito più volte nei mezzi di informazione che noi stessi abbiamo usato? La guerra in Ucraina dura da mille giorni circa o parte da più lontano? Mille giorni è la durata di quella che definiamo invasione su larga scala ma come poi sappiamo se andiamo un pochino indietro con la mente anche solo insomma le notizie che abbiamo letto, i telegiornali che abbiamo visto nel corso degli ultimi dieci anni e mezzo ci rendiamo conto che in realtà il conflitto in corso oggi è cominciato appunto nel 2014. E' cominciato dopo che nel novembre, inizi di dicembre del 2013 migliaia di persone sono scese in piazza in Ucraina per protestare contro i brogli elettorali del presente, ha detto proclamatosi, Viktor Yanukovych. Questo ha inasprito una contrapposizione di carattere anche profondamente culturale con la Russia che ha radici molto molto più profonde. La scintilla diciamo per queste manifestazioni erano state non solo i brogli di Viktor Yanukovych che già nel decennio precedente si era appunto autoproclamato vincitore di elezioni che in realtà non aveva vinto, nel caso specifico del 2013 invece era stato il suo rifiuto di fare quello che aveva promesso di fare, cioè di firmare un accordo di associazione con l'Unione Europea. Non si tratta chiaramente di un ingresso nell'Unione Europea ma di un semplice accordo di associazione di carattere prettamente commerciale che però avrebbe significato un profondo avvicinamento dell'Ucraina all'Unione Europea. Questo ha scatenato proteste incentrate soprattutto nella capitale Kiev ma non solo che hanno portato poi all'uccisione di più di 100 persone sulla piazza principale di Kiev e nelle vie limitrofe e soprattutto hanno portato a un vero rivolgimento dei rapporti politici geopolitici sul continente europeo. Nel marzo del 2014 la Russia ha annesso la Crimea e ha cominciato un'invasione seppur occulta, non aperta come quella in corso adesso, dell'est dell'Ucraina. L'annessione della Crimea sotto il pretesto di un referendum svolto in condizioni assolutamente lontane da qualsiasi legalità è innanzitutto uno schiaffo a uno dei capisaldi della politica estera degli anni successivi alla caduta dell'Unione Sovietica che è il famoso memorandum di Budapest che significava la volontà dell'Ucraina di cedere il suo arsenale nucleare in cambio di garanzie da parte dei maggiori attori della politica internazionale e garanzie sull'inviolabilità dei suoi confini. Annettendosi una regione dell'Ucraina, cioè la Crimea, la Russia, si è bellamente dimenticata del memorandum di Budapest di circa vent'anni prima. Poi ci sono stati anni di conflitto bellico nell'est dell'Ucraina, un conflitto che era quasi congelato negli anni subito antecedenti, il 2022 lo scopio del conflitto su larga scala, ma il fatto che il conflitto fosse congelato non significava certamente che la Russia avesse messo da parte le proprie mire espansionistiche. Questi ultimi dieci anni appunto sono stridensi di fatti e quindi la guerra potremmo dire addirittura che dura da dieci anni ma il rapporto tra Russia e Ucraina dicevi che insomma è complesso già da prima. Che tratti aveva questo rapporto quando sembrava comunque pacifico? Il rapporto Russia-Ucraina è qualcosa che va indietro nei secoli. Come sappiamo, giustificando la propria volontà di annettere l'Ucraina, Vladimir Putin ha detto in Mondovisione due anni e mezzo fa che l'Ucraina e la Russia sono tradizionalmente un popolo, una nazione sola e quindi è giusto che ritornino a ritrovarsi nei confini di uno stesso Stato. Questo non è affatto vero. La Russia, l'Ucraina ma come anche la Bielorussia o come si diceva prima Bielorussia derivano da una stessa cultura slavo-orientale che è entrata nella storia verso la fine del X secolo con la cristianizzazione ma che già in quello che per noi è il basso medioevo ha cominciato un mondo, quello slavo-orientale, che poi ha cominciato a suddividersi rapidamente ponendo le basi poi per lo sviluppo dei tre stati nazionali che conosciamo oggi, la Russia, l'Ucraina e la Bielorussia. Per secoli quelle che oggi sono la Russia e l'Ucraina e la Bielorussia che invece hanno avuto un rapporto molto stretto tra di loro si sono trovate quindi su binari storici differenti. È stato soprattutto tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento che la Russia, espandendosi sempre di più, ha occupato queste terre ponendo le basi anche culturalmente per l'idea che quella fosse tutta Russia. Nel corso del Novecento, poi in seguito alla Prima Guerra Mondiale l'Ucraina è riuscita a diventare uno Stato indipendente ma per pochissimo tempo per poi essere in buona parte assorbita dalla neonata Unione Sovietica, mentre la parte più occidente invece è stata inglobata nella rinata Polonia dopo un secolo e alcuni decenni di mancata indipendenza. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 la Russia e l'Ucraina si sono trovati a passare da una base comune quella del 91-92, insomma quando erano due Stati vicini che dovevano completamente ricostruirsi poi a invece prendere traiettorie ancora una volta molto molto diverse. L'Ucraina ha cominciato a guardare sempre di più a Occidente riscoprendo quella sua intrinseca europeicità di cui aveva goduto per secoli mentre la Russia, soprattutto verso la fine degli anni 90 poi l'arrivo di Vladimir Putin al potere ha intrapreso un percorso suo, autonomo anche ostentatamente lontano da quello dell'Europa. Negli anni 10 tutto questo è esploso e il progetto neoimperiale russo non poteva che prevedere il tentativo di riannettere l'Ucraina ripensando a quella che era stata l'esperienza dell'impero russo. Nella visione di una Russia neoimperiale infatti la Russia non è completa se non esercita il suo dominio su quella che la Russia imperiale ritiene essere una parte integrante del proprio territorio forse il cuore del proprio territorio ripartendo dall'idea errata, falsificata sfruttata ai propri fini che Kiev e la sua regione siano il cuore stesso della Russia. Questo non è vero perché Kiev è stata la prima città della Slavia orientale a assumere il centro del potere ma appunto parliamo di una civiltà quella della Slavia orientale entrata nella cristianizzazione alla fine del X secolo che non è da confondersi con la Russia di oggi ma è diciamo uno stato antecedente alla Russia all'Ucraina e alla Biela Russa che era territorio comune dei tre. Nel suo progetto imperiale diciamo a partire dall'età di Ivan il Terribile nel 500 ma in realtà anche nel 400 invece la Moscovia ha cominciato a interpretare se stessa e a proporsi al resto del mondo come il seguito della Russia facendo quindi passare il messaggio che Kiev era ed è una città russa quindi qualcosa da riconquistare invece come abbiamo visto per secoli l'Ucraina e la Russia sono andate avanti secondo traiettorie diverse e questo in effetti ha portato a visioni della propria appartenenza culturale e anche del proprio orientamento geopolitico molto molto diverse visioni che oggi si scontrano e che in seguito a questa guerra che dura da più di dieci anni insomma sono destinate veramente a non potersi comprendere io penso per un periodo piuttosto lungo. Io vi ricordo che siamo in collegamento con Alessandro Chilli che è professore associato all'Università di Cagliari Alessandro andiamo a questi ultimi anni e al tuo interesse principale ovvero la poesia e la letteratura dell'Ucraina come si scrive e come si recita poesia oggi ovvero quale è lo stato di salute della produzione letteraria di quest'anni e che influenze ha avuto dalla guerra so che potresti parlarne per giorni ma in un paio di minuti. Potrebbe sembrare strano ma la letteratura e la poesia nello specifico nell'Ucraina di oggi godono di ottima salute in Occidente tendiamo ad avere una visione molto laica della poesia, della letteratura come un intrattenimento edificante ma insomma qualcosa di cui possiamo fare anche a me. Vediamo invece che nell'Ucraina di oggi la poesia è qualcosa di fondamentale i miei amici, i miei contatti che vivono in Ucraina o che viaggiano in Ucraina mi raccontano delle nuove librerie che si aprono in continuazione nella capitale a Kiev e non solo e anche dei numerosi festival letterari sia quelli tradizionali che vanno avanti nonostante i bombardamenti e i droni ma anche nuovi festival che spuntano come funghi la letteratura in Ucraina ha proprio un ruolo di piattaforma di dibattito per la società nella letteratura si tratta di temi importanti che riguardano tutti si cercano risposte comuni alle sfide in corso e chiaramente al momento la sfida per eccellenza non può che essere quella della guerra e quella del trovare e ripensare strategie comuni appunto per resistere nonostante la crudeltà e l'assurdità anche degli attacchi in corso siano ormai sotto gli occhi di tutti Quali temi sono quindi più ricorrenti nelle poesie di oggi in Ucraina? Io direi che i temi più ricorrenti sono appunto quelli della comunità del bisogno di conoscersi rispettarsi di parlare insieme e saper parlare insieme e saper ascoltare gli altri è appunto fondamentale per poter resistere insieme Chiaramente la resistenza è qualcosa che necessita di coordinazione di sforzo comune della capacità appunto di rispettare l'altro anche nelle proprie differenze ed è interessante vedere quindi come la letteratura ma soprattutto la poesia la poesia con la sua capacità di essere scritta in fretta di circolare in fretta di essere goduta apprezzata rapidamente è interessante notare come appunto la poesia sia una perfetta piattaforma per questo tipo di conversazione pubblica diretti chiaramente in questo anche il ruolo delle nuove tecnologie di internet dei social media è fondamentale questi strumenti fanno sì appunto che una poesia possa essere scritta pubblicata condivisa molto rapidamente e molto spesso poi anche tradotta in altre lingue e in questo modo poi la letteratura si trova a funzionare non soltanto come mezzo di discussione di dibattito a livello nazionale ma anche a livello internazionale e chiaramente per l'Ucraina oggi il sostegno dall'estero e la possibilità di essere ascoltati e di essere anche capiti perché questo non è scontato all'estero è molto 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 importante cosa ti ha portato ad avvicinarti proprio a questo paese qual è il tuo rapporto con l'Ucraina ma come per molte altre cose poi c'è anche una componente di casualità e di fortuna studiando slavistica le lezioni di cultura e letteratura ucraina erano state quelle più interessanti e poi insomma questo come dire ha spinto in me la svegliare risvegliato in me la curiosità del volermi occupare di qualcosa di cui sapevo molto meno di qualcosa di cui si è sempre sentito parlare anche molto meno che appunto del vicino numericamente quantitativamente più grande che è la Russia con la sua letteratura e la sua cultura che era la cultura slava da cui da cui ero partito avvicinandomi appunto con una certa dose di casualità alla cultura ucraina poi mi sono reso conto appunto di quanto ci fosse da scoprire di quanto fossi e fossimo ignoranti di questa cultura nazionale e poi insomma come dire le cose vanno da sé si comincia a studiare qualcosa e si cerca poi di andare sempre sempre più in profondità e in questo devo dire che anche l'Australia ha giocato un ruolo importante per me dandomi la possibilità un anno e mezzo dopo la fine del mio dottorato di poter lavorare come ucranista per qualche anno quindi come dire arricchendo notevolmente lo bagaglio sia di conoscenze che poi anche di capacità di saperle trasmettere queste conoscenze che in dei conti poi è sempre la cosa più importante in conclusione Alessandro posto che ovviamente nessuno lo sa quale futuro intravedi per l'Ucraina o se preferisci quale idea di futuro trovi negli scritti recenti in cui ti sei imbattuto nelle ultime settimane direi si sente sempre più parlare della necessità di una pace sappiamo quanto sia bella la parola pace ma anche quanto la parola pace sia stata abusata purtroppo negli ultimi anni molto spesso pace oggi significa compromessi dolorosi accettabili inaccettabili e che lasciano aperte porte molto pericolose per il futuro quello che io vedo sento percepisco nei miei contatti in Ucraina in quello che leggo in quello che mi arriva è la volontà di resistere il più possibile sicuramente c'è la consapevolezza dell'enorme quantità di vite umane che stanno venendo sacrificate ma c'è anche l'idea che se non si cerca di fare il più possibile per resistere per far sentire per far capire a tutti che si vuole andare avanti e non si vuole soccombere l'Ucraina potrebbe smettere di esistere potrebbe essere completamente inglobata dalla Russia e questo è qualcosa che gli ucraini assolutamente non vogliono ed è qualcosa di molto pericoloso per la comunità internazionale e per questo io credo che dobbiamo essere molto grati agli ucraini per lo sforzo immane che stanno facendo nella loro resistenza e che poi come sappiamo molto spesso non riceve un livello di supporto internazionale insomma dell'altezza che uno sforzo immane del genere invece si meriterebbe davvero grazie quindi ad Alessandro Achilli grazie per essere stato qui con noi oggi su SBS grazie a te grazie a voi volete ascoltare altre storie come questa potete trovarle su Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast grazie a te grazie a te